ah beh adi chupan contro samsung d'auda mister olympia 2023 dovrei aver messo bene in scala i due chiaramente sono foto che ho messo insieme e dovrei aver messo bene le altezze le proporzioni comunque samsung sembra una schifezza ma credo che sia una questione di luci perché stavo facendo anche il confronto con samsung dell'anno scorso e sembrava nettamente meglio l'anno scorso quando in realtà guardando i video è sicuramente superiore a quest'anno rispetto al 2022 questa posa la darei a adi perché sebbene samsung sia più bello da vedere adi più definito e non stiamo parlando solo di definizione tipo adi contro derrick cioè samsung ha problemi a definirsi cioè è un terzo posto il suo ma ha una definizione secondo me abbastanza scadente per essere così in alto all'olimpia poi chiaramente le proporzioni colpo d'occhio il rapporto vita spalle è superiore rispetto a quello di adi è superiore rispetto ad altri bodybuilder però la definizione lo penalizza molto anche nelle gambe vedete che non c'è la separazione la graniticità che ha adi nelle braccia nel gran dentato nel vacuum nell'addome è una posa sicuramente di adi anche il last spread lo darei adi per la definizione soprattutto poi entrambi sono dei difetti adi ha questa spigolosità nelle spalle soprattutto a sinistra accuse e sintol che sentiamo da sempre però samsung ha un po di ginecomastia nella tettina sinistra non dico che c'è uno spanciamento a livello addominale però non controlla bene l'addome e poi come detto le luci secondo me penalizzano molto samsung sebbene siano foto fatte entrambe al pre judging quindi nel venerdì le luci sembrano completamente diverse quindi non so che cazzo abbiano in testa quelli dell'olimpia comunque anche questa posa la darei adi più che altro per la graniticità per la definizione samson ha questi difetti cioè addome e tettina sinistra 6 chest in questo caso potremmo anche dare questa posa a samson perché è più bello da vedere la definizione sembra superiore perché comunque le luci sono cambiate quindi questo dice lunga su quanto siano importanti le luci la posa è più bella da vedere secondo me nel complesso potremmo dare questa posa a lui la definizione come detto sembra superiore mi piace molto anche adi è più granitico però ha dei difetti cioè il tricipite un po corto quindi non c'è quella striscia continua diciamo quella stondatura continua che va da deltoide al gomito che invece ha samson che recupera molto in densità del petto nelle braccia e nella posa in generale nella bellezza estetica della posa mettiamola così passando al back to the bicep qui samson perde un casino un bodybuilder così grosso così imponente ha una schiena davvero lacunosa secondo me deltoidi troppo grossi rispetto ai dorsali che sono quasi inesistenti cioè le proporzioni tra braccia e dorsali ma soprattutto deltoidi e dorsali sono nulle cioè deve davvero lavorare sulla schiena non so se sia un limite genetico o altro la definizione nei glutei è molto scadente anche la densità nella parte centrale della schiena è così così anche adi secondo me è un po lacunoso per quanto riguarda la densità nella schiena trapezio dorsali sono un po oscurati dalla pienezza dei deltoidi cioè i deltoidi non possono essere così grossi rispetto secondo me la parte centrale della schiena e dorsali però ha comunque una buona definizione soprattutto nei glutei una buona separazione nella parte alta della schiena però anche per adi secondo me c'è un po da lavorare soprattutto per quanto riguarda deltoidi e densità della schiena anche in questo caso questa posa la do adi perché può essere più piccolo risulta più largo più grosso più tutto più definito glutei definizione nei femorali dettagli samson è più alto di almeno 20 centimetri ma non si allarga nei dorsali cioè questa posa per un bodybuilder così alto dovrebbe essere schiacciante invece non lo è non si allarga agli stessi problemi che dicevo prima per quanto riguarda i dorsali che si allargano un po di più rispetto al back double bicep però non abbastanza per un bodybuilder così alto e così imponente in più non è abbastanza definito quindi anche questa posa da rea adi che recupera in densità nella parte bassa della schiena vedremo cosa faranno all'armo classic io non mi stupire se samson lo battesse però guardando queste foto mi sembra che adi sia abbastanza superiore absente ice questa è una cosa che potremmo dare a samson perché è più bello le gambe mi piacciono di più per quanto non siano dettagliate come quelle di di adi l'addome mi piace di più il colpo d'occhio è superiore la posa è più bella anche se contiamo l'esecuzione però a di più definite più granitico la vita gli si è allargata un po rispetto all'anno scorso mi piace molto la definizione del gran dentato ha più tagli nelle gambe però più brutto da vedere quindi questa posa potremmo darla anche in parità contando tutti questi fattori che ho appena detto poi c'è da dire che samson secondo me non sta aiutato dai pannelli led dietro nel nel palco perché avete visto come cambiavano in ogni foto invece forse adi ha avuto più fortuna sotto questo punto di vista minando meno le luci most muscular questa è un'altra cosa che potremmo dare in parità mi piace molto quella di di samson che ha dalla sua secondo me gli avambracci e i tricipiti superiori bella pienezza del petto superiore rispetto a quella di adi che però nonostante sia meno pieno meno denso è più definito globalmente ma anche nel petto più striature più più tutto comunque direi che adi vince questo confronto ho detto più volte che secondo me samson è stato un po penalizzato dalle luci e dai pannelli però samson è comunque meno definito anche lui alcuni difetti strutturali proprio e genetici secondo me che non so se ovvierà negli anni però vedremo all'armo classic perché ci dovrebbe essere di nuovo un confronto tra i due non mi stupirei come detto se samson ne uscisse vincitore anche contando quello che ha fatto a di non servire dal palco con la medaglia buona grazie a tutti Grazie per la visione!